Penso che sia una cosa che non abbia ragione d'essere, nel senso che i contagi sono più o meno stazionari e poi qui bisogna considerare che è un bacino molto largo a livello di distretto sociosanitario, di comprensorio perché qui attorno alla piazza di Montecchio, piazza della Repubblica, ruotano 50.000 persone che sono residenti quindi se uno fa i conti su 15.000, 14.000 e passa, sbaglia, fa i conti. In secondo luogo ci sono tante attività lavorative e commerciali che so, da Stefano vengono da Pesaro Urbino a comprare le cose che lui vende e quindi c'è nel bene gente che viene a lavorare, che trova benessere. Quando c'è un'infezione, una pandemia come questa, è chiaro che più forte è anche la possibilità di creare contagi. Quindi il calcolo l'ho fatto in un bacino, in un comprensorio più vasto. Tra l'altro noi abbiamo 93 contagi, dati che abbiamo noi, che sono quelli che da 10 giorni sono sempre quelli quindi non ha senso tanto più che ho chiesto al Presidente della Giunta regionale che è stato disponibile a chiamarmi e gli ho chiesto di trovare tutti gli elementi necessari per la revoca di questa ordinanza e spero, io sono ottimista, fiducioso e siamo un po' anche ammareggiati, diciamolo pure, perché insomma non pensavamo che dato che eravamo in zona gialla, che abbiamo fatto di tutto per dire alle persone che non devono fare sembramenti, che devono mantenere le mascherine, che devono fare l'igienizzazione. Però la gente è anche stanca, è un anno che sono in un sacrificio enorme, per fortuna hanno continuato a lavorare quindi l'appello che io ho fatto è quello di revocare l'ordinanza e di fare il punto vaccino a Talacchio di Vallefoglia messo a disposizione gratuitamente dal Comune per evitare di spostare 50.000 persone a Pesero creando incidenti stradali, inquinamento atmosferico, disagio a tutte le persone però ecco, spero insomma, sono fiducioso che il Presidente della Giunta regionale l'Assessore della Regione possa ritornare sui suoi passi e darci una situazione quella che è di normalità.